Fanno irruzione con le armi, afferrano al collo una ragazza e poi scappano con i soldi della cassa. Sequenze di una delle rapine commesse da una banda di tre sinti che per mesi ha imperversato in tutto il padovano. In manette sono finite Davide Cavazza di Loreggia, Cristian Gabrielli di Castelfranco e Reire Landini di Vedelago. Tre banditi professionisti che non esitavano a malmenare le vittime. In queste immagini colpiscono con la canna del fucile la commessa che tenta di spruzzare lo spray urticante. Un gruppo predisposto ad un'eventuale azione di fuoco con le forze dell'ordine, armati, pesantemente armati, attrezzati anche per contrastare un intervento delle forze di polizia. Un'indagine difficile visto che i tre nomadi non usavano il cellulare per comunicare durante i colpi. Per le rapine usavano un'Audi Bianca rubata a Castello di Godego o una BMW rubata a Padova. Tre individui molto pericolosi, esperti perché hanno precedenti specifici, quindi si muovevano sul territorio con una capacità, una mobilità elevata, attenti anche agli spostamenti, scrupolosi nell'eseguire degli accurati sopralluoghi prima di portare a termine un colpo. Per il momento sono accusati di una rapina in un bar cinese di Carmignano di Brenta lo scorso 23 settembre. Il giorno seguente hanno fatto irruzione in una sala giochi di Borgorico. A dicembre invece in una sola notte hanno svaleggiato un distributore sulla A13 a Due Carrare e poi una sala slot a Campo San Piero. La lista dei colpi però potrebbe essere ancora molto lunga.